Grazie dell'invito dell'Accademia a parlare di alcune mie considerazioni recenti sull'architettura. Non hanno nessuna pretesa di oggettività ovviamente, sono appunto idee che mi sono venute nel corso degli ultimi tempi e sui quali sto ancora lavorando. Leggerò alcuni passi ma sostanzialmente ve le racconterò in modo molto libero e anche rapsodico. Intanto vorrei dire che le mie considerazioni recenti sull'architettura si scrivono all'interno di una duplicità che non si risolve però nella scelta per l'uno o per l'altro polo. Questa duplicità consiste in questo. Da una parte mi interessa molto accumulare sempre più conoscenze su quella che è stata ed è l'architettura moderna e contemporanea. Quindi approfondendo alcuni temi, alcune direzioni, alcuni sentieri eccetera. Dall'altra invece c'è l'esigenza, credo non soltanto mia in questo lavoro, di pervenire a una semplicità interpretativa. Cioè la comprensione non può essere tale da impedirci di avere una certa idea abbastanza anche schematica sulla quale puoi costruire un'azione. Quindi da una parte c'è l'esigenza di avere un'idea il più possibile complessa di quello che è avvenuto dall'inizio del Novecento a oggi e dall'altra c'è l'opposta invece necessità di ridurre tutto a una forma semplice, schematica, che però consenta di posizionarsi meglio nel dibattito. E quindi tutto quello che dirò è all'interno di questa duplicità. Volevo elencare qui, leggendo alcuni caratteri dell'architettura del Novecento, io adotterei questo criterio. Sappiamo che non è facile decidere quando è cominciata l'architettura moderna. Io direi che per comodità la fare cominciare con l'inizio del Novecento, anzi con il 1901, quando a Roma Tony Garnier ultima la sua Cité industrielle, che è una delle prime opere in cui la modernità assume i tratti di un pensiero complessivo che abbraccia diversi aspetti della vita umana, in questo caso le città nuove modellate sul mondo dell'industria. E quindi per me, diciamo, in questa conversazione il Novecento è l'inizio della modernità. E questi caratteri quali sono? La necessità di ricorrere a nuove forme di elaborazione e di propaganda delle tesi da diffondere, su cui il carattere propagandistico della produzione teorica della modernità, sulle quali ovviamente costruire un consenso il più vasto possibile. La natura ha spesso contraddittoria di molte tendenze, tra le quali alcune delle tendenze principali, per esempio la posizione, la visione, le corbiseriana dell'architettura proposta inverso un'architettura. Assieme a questi caratteri abbiamo una serie di valutazioni più accidentali e occasionali, molte di queste teorizzazioni si sono dimostrate estremamente valide, sono ancora oggi alla base del lavoro degli architetti contemporanei. Però io credo che ci siano anche alcuni errori e mi sono sforzato di individuarne alcuni, nella fattispecie tre, che poi alla fine di questo ragionamento vi proporrò. Però prima di entrare, appunto, prima di analizzare questi tre errori, volevo però elencare semplicemente alcune coppie oppositive che si ritrovano in tutta la storia dell'architettura moderna. Vole a dire, l'architettura moderna la possiamo, diciamo, considerare come il risultato dell'interazione fra estremi. Quindi ho elencato una serie di coppie dialettiche entro le quali, secondo me, si è svolta sostanzialmente la ricerca in un secolo e quindici anni di architettura. Però, prima di fare questo, volevo dire qualcosa sulla storia dell'architettura. Per me la storia dell'architettura ha un difetto congenito, una storia dell'architettura moderna, ha un difetto congenito che è una storia prematura. Vale a dire, le prime storie complete dell'architettura moderna sono state pubblicate negli anni 40. E quindi, praticamente, contemporaneamente a quando gli eventi si stavano svolgendo, si erano appena svolti. Il Manifesto dell'architettura futurista del 1914, una delle prime storie dell'architettura moderna del 1943, quindi sono neanche 30 anni che separano. E quindi non è possibile parlare, per noi che ci siamo formati come architetti, di aver avuto a che fare con vere storie dell'architettura. Ci siamo formati su scritture che sono scritture di parte, spesso scritture propagandistiche, sono manifesti, sono opere di critica più che di storia. E questo aspetto fenomenologico, trasformativo, per così dire, evolutivo, ha influito moltissimo sulla nostra visione delle cose. Io penso per questo, e mi piace che ci sia qualche giovane, mi piace pensare che saranno i giovani oggi, che oggi, diciamo, stanno entrando nel mondo dell'architettura, che potranno produrre le prime vere storie dell'architettura. Perché la distanza da ciò che è avvenuto è sufficiente per averne una, diciamo, visione più equilibrata, e soprattutto più completa. E poi perché, finalmente, l'impronta, il carattere ideologico della storiografia dell'architettura contemporanea non c'è più, è stato, per così, accantonato. Anche se, come dirò più tardi, senza un punto di vista ideologico, non è possibile fare nessun lavoro al mondo. Quindi, diciamo, un conto è la fine delle ideologie come sistema di esclusione, proprio tematizzata e preventiva. Un conto è la necessità che permanga una visione del mondo, ovvero un'ideologia, perché altrimenti il nostro operare non avrebbe nessun significato. Detto questo, che mi pare però, diciamo, un passaggio importante nel nostro rapporto con quello che è successo in un secolo e qualche anno, vorrei elencare, leggerò queste coppie dialettiche che appunto presentano un paesaggio teorico vasto, accidentato, a volte anche, potremmo dire, drammatico, perché immagino gli architetti degli anni 20 e 30 destreggiarsi fra queste alternative, perché noi abbiamo dedicato una lettura da Zevi, da Benevolo, da Gideon, da Perzner, da tanti altri storici, molto semplici, da una parte gli innovatori e dall'altra i tradizionalisti. In realtà non è mai stato così. I due fronti si sono attraversati, si sono mescolati, alcune persone hanno anche cambiato la loro posizione, quindi la visione che noi dobbiamo conquistare è molto diversa da quella che queste coppie oppositive ci suggeriscono. Le elenco semplicemente, effimero, durevole, astratto, concreto, materiale e spirituale, ricordiamoci il dissidio interno al Bauhaus tra l'ala, come dire, materialista, globiusiana, e l'ala spiritualista degli artisti che ha animato e probabilmente distrutto il Bauhaus prima ancora che lo distruggesse il nazismo, realistico, antirealistico, oggettuale, processuale, formale, informale, misurato, smisurato, individuale, massificato, statico, dinamico, ordinato, disordinato, semplice, complesso, intero, frammentato, impegnato, disimpegnato, ornato, spoglio, prospettico, antiprospettico, zevi, simmedio, asimmedio, sempre zevi, brutto, bello, reale, utopico, aperto, chiuso, definito, indefinito, completo, incompleto, finito, infinito, esplicito, implicito, esclusivo, inclusivo, piccolo, grande, sono appunto queste, diciamo alcune, poi ciascuno di noi, secondo me, potrebbe togliere qualcuna, aggiungerne altre, però basta questo elenco per comprendere quanto sia appunto difficile, complesso, e anche rischioso, dal punto di vista dell'interpretazione, fare i conti con questa realtà del dibattito all'interno dell'architettura moderna. Poi a queste opposizioni vanno aggiunte altre, che sono le antennadee fra luogo e atopia, memoria e obbrio, necessità e caso, razionalità e irrazionalità, concentrazione, dispersione, regole e eccezione. Ecco, quindi, aveva ragione, Robert Venturi, nel suo libro Complessità e contraddizione nell'architettura, non c'è dubbio che la sua visione era giusta, era avanzata, aveva colto nel segno rispetto alle semplificazioni della storiografia corrente. E poi un'altra cosa sulla storia, che ho, diciamo, tralasciato di dire, ma che dirò adesso, noi possiamo distinguere due tipi di storia dell'architettura, sostanzialmente, come di storia poi di qualsiasi altra attività umana. C'è una concessione della storia, che è stata quella, per esempio, degli storici dell'architetto moderna, che è teleologica, la storia viene presentata come una serie di eventi che si concludono con qualcosa che in qualche modo chiude la vicenda e dice, siamo arrivati qui. La storia aveva questa finalità e l'ha raggiunta. La storia dell'architettura moderna di Bruno Zevi è un capolavoro da questo punto di vista. È una storia che si conclude con l'organicismo raitiano. Lì, in qualche modo, l'architettura finisce, perché da allora in poi, secondo la concezione di Zevi, gli architetti avrebbero continuato per secoli, per millenni, a fare quell'architettura perché era il massimo che la mente umana e la storia stessa avessero potuto concepire. Ci sono invece altre storie, ce n'è una in particolare, in cui questa finalizzazione non esiste e quindi la storia viene presentata in modo un po' darwiniano come, diciamo, il susseguirsi di eventi che non hanno una vera motivazione né una vera destinazione, né una vera finalità. si accostano l'uno all'altro e producono incidenti anche, ma, diciamo, casualmente. Ed è la storia, per esempio, proposta dal libro che leggono di più oggi gli studenti, che è la storia dell'architettura di Frenton, che è una specie di elenco molto ben fatto, che appunto classifica per di tassonomia, dalla quale però non risulta nessuna intenzionalità reale. È come se, diciamo, gli esseri umani costruissero costantemente interpretazioni che si sommano l'una alle altre costruendo un mosaico che però non è decifrabile, non ha nessuna intenzionalità. È anche questo noto se la storia debba essere qualcosa che indica una prospettiva o semplicemente il racconto di una complessità che non ha però una sua destinazione, una sua anche possibilità di utilizzazione come indicazione strategica, è un compito che dovranno affrontare i giovani architetti. Ecco, c'è un altro problema molto importante. Ammesso che sia vero che diciamo l'architettura del Novecento e dei primi anni del nuovo secolo si presenta un labirinto in cui ci sono tantissime tendenze che non si combattono più ma si affiancano. Oggi non è che c'è una guerra fra i tradizionalisti e gli innovatori. Ci sono gli architetti che fanno le loro cose trasparenti e ci sono architetti che invece costruiscono ancora diciamo secondo una concezione muraria per così dire dell'architettura ma non c'è più una polemia che li oppone eccetera. Allora la domanda che sorge è questa esiste una mobilità tematica una molteplicità di indirizzi ma noi non possiamo accettarla semplicemente. Questa mobilità e questa compresenza di tendenze diverse impedisce di adottare la strategia che per un secolo è stata la più efficace diciamo nel costruirsi un punto di vista che è la strategia indicata da Baudelaire quando dice che la critica io direi anche la teoria deve essere di parte appassionata e politica oggi questa indicazione straordinaria di Baudelaire non è più non funziona più che senso ha diciamo non è possibile schierarsi certo ciascuno fa la sua architettura quindi personalmente si schiera ma non ci sono più gli estremi per condurre guerre disciplinari su fronti diversi cioè non accade in effetti la diciamo la natura labirintica della condizione attuale è tale che diciamo questa possibilità di essere così decisi e precisi pubblicamente con le proprie scelte non c'è più c'è la possibilità personale di appunto di chiedere alcune cose come io sto facendo con questa conversazione quindi il problema è come si può fare a riproporsi una come dire direzione anche ideologica cioè una visione del mondo senza la quale ripeto non può esistere un nostro diciamo impegno autentico nell'architettura come non potrebbe essere possibile in nessun'altra arte senza ricorrere all'esclusione che invece era la chiave della critica ideologica ancora oggi con alcune persone non si possono nominare alcuni alcuni protagonisti non è possibile parlare ad esempio ancora in modo stesso e tranquillo nella cultura italiana di una figura come Samerio Muratori per esempio Samerio Muratori ancora oggi colpito da una sorta di amnazio memoria che si sta ovviamente attenuando si sta attenuando ormai come dire è per esempio molto più legittimato fuori dei nostri confini che in Italia ma ancora c'è un certo imbarazzo nel fare i conti di una figura fondamentale che ha avuto la sfortuna di elaborare le proprie teorie nel momento stesso in cui Rogers pensava più o meno le stesse cose Rogers però aveva una posizione dominante nel panorama italiano negli anni 50 aveva a disposizione una straordinaria rivista come Casabella e praticamente ha potuto ignorare Muratori e accreditare la tesi che Muratore fosse una sorta di tradizionalista diciamo isolato che parlava insomma al vento o a se stesso quando invece ha permesso per esempio che una scuola come quella di Venezia si potesse basare su un'autentica teoria urbana quindi le cose sono molto comprese ecco come si fa in una situazione come questa di oggi così fluida uso un aggettivo che non mi piace molto liquida come direbbe Bauman avere un punto di vista che eviti l'esclusione questa è una domanda alla quale ovviamente non voglio rispondere adesso ma è la domanda che mi preme bisogna essere diciamo precisi nel mondo Persico diceva credere ideologie precise e aveva ragione ma queste ideologie precise non possono essere più vissute e per così dire esercitate in modo tale da escludere alcune cose da vietare di pensare alcune cose o addirittura di non vedere alcune cose perché ci sono diciamo architetture per esempio trascurate dalla storiografia ufficiale ideologica che hanno un'evidenza tale che è impossibile che non siano state apprezzate per quello che erano non sono state incluse perché politicamente ideologicamente non era possibile farlo intere esperienze sono state censurate negate con un grandissimo danno per la comprensione di quello che veramente è diciamo la sostanza umana di questo mestiere in cui come nella letteratura nel cinema naturalmente convivono diversi punti di vista diverse poetiche diverse teorie senza che questo diciamo attivi una specie di guerra civile per cui non so chi fa un'architettura diversa dalla mia io lo devo pensare come una persona moralmente discutibile cosa che è successa più volte nell'architettura italiana anche recente ricordo diciamo lo scontro mai 50 anni fa tra Bruno Zevi e Paolo Portoghesi a proposito subito dopo la mostra molto bella di Michelangelo quando preparavano la mostra su Borromini ci fu come dire un divorzio diciamo doloroso e Paolo Portoghesi da allora in poi ha usato un repertorio diciamo descrittivo della figura di Paolo diciamo tutto basato su questioni morali come dire è immorale non so pensare a una possibilità di architettura neobarocca perché è immorale puoi non essere d'accordo puoi preferire un'altra linea ma certo non ti puoi permettere di condannare eticamente una tendenza che è diversa dalla tua invece questo modello che è appunto una derivata prima dell'approccio ideologico è stata diciamo praticata da questo punto vista ha avuto un grandissimo successo nell'architettura italiana degli ultimi 50 anni io personalmente mi sono sempre chiesto perché me la prendo così tanto me la prendo molto perché per mia formazione diciamo le condanne le esclusioni rappresentano una perdita insanabile perché per esempio per un'intera generazione una grande ricchezza viene negata viene occultata viene condannata perché quella figura con quello che ha dato di importante non c'è quindi è come se un'intera esistenza non ci fosse stata io sono architetto perché ho deciso di fare l'architetto perché i miei amici lo sanno perché da piccolo abitando al Quadraro vedo un pomeriggio arrivare una specie di esercito nel terreno nei terreni nei terrenvaghi dove andavamo a giocare il pomeriggio arrivano gru scavatrici operai eccetera e viene fuori il Tuscolano 2 con le torri di Terenzi e muratori secondo me un quartiere bellissimo io ho assistito tutti i giorni al cantiere durato un paio d'anni e una mattina di maggio del 51 sono andato lì perché c'era l'inaugurazione del quartiere e mi ricordo che le madri di famiglia salivano e scendevano le scale di queste torri chiamandosi vieni a vedere casa nostra no no stiamo qui vieni tu eccetera c'erano i bambini come me che correvano salivano una gioia incredibile un cielo meraviglioso questi colori pastello di queste torri appena finite è stata un'immagine di gioia talmente forte che ho detto l'architetto deve essere un lavoro bellissimo mi piace questo voglio farlo ebbene figure come Terenzi come muratori appunto pensare che figure come queste sono poi finite in una specie di limbo è veramente per cui generazioni intere di giovani non l'abbiano potute apprezzare come tante altre come Moretti per esempio per anni Luigi Metti oscurato a favore di altre figure meno importanti è qualcosa che personalmente mi ha sempre molto molto coinvolto e per questo cerco ogni tanto di chiedermi diciamo ma se il valore emerge da solo perché la bellezza non ha bisogno di spiegazioni come mai l'ideologia è così forte da poterla rendere invisibile e allora ragionando sulla necessità diciamo di superare una storiografia e una critica del bene contro il male perché questo schema non funziona ecco mi sono cominciato a chiedere bene in questo labirinto dell'architettura moderna quali sono secondo me le cose che non funzionano oggi che storicamente possiamo dire che in qualche modo sono sbagliate che ci privano di qualcosa e quindi arriviamo ai tre errori moderni che Francesco Moschini ha così bene riassunto il primo errore io qui leggerò un po' il primo errore secondo me dico sempre secondo me perché non vorrei dare a queste parole un valore più forte di un pensiero personale anche molto discutibile il primo errore è secondo me l'idea del progetto con una previsione chiusa redatta in un tempo limitato completa in ogni suo aspetto cioè il progetto come un insieme di scelte bloccate definitive in effetti i caratteri del progetto moderno sono la velocità l'efficienza l'economia figlia delle evoluzioni industriali l'architettura moderna è nata sotto il segno dell'emergenza come ricordo lo stesso termine di avanguardia milioni di persone che abbandonavano la campagna per la fabbrica trasformavano la città in estesi e caudici agglomerati nei quali la questione delle abitazioni alle quali Federico Engels dedicherà un celebre libro diventava centrale non a caso un'ispirazione militare accompagna l'organizzazione della produzione edilizia che si configurano operazioni in cui una tecnica che poi diventa tecnologia e questo è un problema perché la tecnica ha voluto essere tecnologia non c'era bisogno ma poteva rimanere tecnica assume un ruolo sempre più determinante l'idea del progetto come presione chiusa redatta in un tempo limitato completa ognuno dei suoi aspetti separa il progetto stesso e la sua realizzazione dalla sfera esistenziale del suo autore è in tale scissione che quest'errore produce i suoi effetti più rilevanti il tempo di realizzazione di un'opera si pensi che la costruzione della nuova Basile di San Pietro è durata un secolo e mezzo non appartiene più alla vita dell'architetto non è più possibile accompagnare la crescita dell'edificio con la sua definizione progressiva che consente di trascrivere puntualmente le variazioni della sua concezione da parte dell'architetto quando Michelangelo dava vita alla sua architettura definiva prima la pianta eseguiva le fondazioni erigeva la struttura solo quando l'opera prendeva lentamente forma studiava i dettagli costruttivi necessari al montaggio dei rivestimenti in marmo disegnava le pavimentazioni decideva il trattamento delle superfici l'edificio cresceva così in accordo con un segmento di vita di chi l'aveva concepito si verificava così una condizione osmotica che legava l'artefice e l'opera anche il rapporto con la città si chiariva in un processo nel quale entrava ogni momento dell'esperienza umana che l'architetto viveva durante la realizzazione di un suo progetto assieme a quella diciamo abitudine che cresceva nel tempo dei cittadini che seguivano l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi ecco immaginiamo quanti sentimenti e quante generazioni di sentimenti hanno accompagnato la nascita dell'ambiente di San Pietro che si è assimilata piano piano fino a diventare più potremmo dire una presenza geografica quasi che una presenza architettonica ora questa meravigliosa coincidenza tra la vita e la costruzione si è perduta con la modernità non c'è dubbio e io appunto mi chiedo è possibile invece che queste due sfere tornino a coincidere che sia possibile che la vita di un architetto duri anche quando il progetto viene diciamo eseguito mentre quando viene eseguito il progetto l'architetto viene per così dire allontanato può anche non andare più in cantiere ci pensano la struttura ci pensa l'impresa lui può tornare dopo due anni e vedere la sua opera finita non avrà più i segni del tempo interiore ed esteriore che il suo creatore il suo artefice ha concepito grazie a tutti